Grandi ragazzi, come state? Benvenuti nella cucina per tutti! Non siamo in questo momento nella mia cucina ma nel bosco e in Trentino vi avevo promesso che vi avrei fatto una buona ricettina con i funghi porcini quindi oggi sono venuto a raccoglierli proprio per voi volete vederli? Guardate qui un po' che cosa ho trovato guardate il cesto com'è bello promettente guardate ecco, con questi porcini abbiamo detto che facciamo due videoricette facciamo delle pappardelle ed un secondo quindi ci vediamo alla prossima videoricetta intanto vi faccio vedere una carrellata dei miei ritrovamenti ciao ragazzi e infatti a cercare si trovano dei begli esemplarini di boletos edulis già ragazzi guardate qui, ma poi di nascita eh guardate che bello proprio porcino di montagna diciamo la giornata bene sì, cioè bene in che senso? come camminato o come qualcos'altro? vediamo, vediamo eccolo ma guardate in montagna che cosa si trova eh eh sì, è lui eh ma sì dai oh guarda, scrocchia anche eh eccolo qui hai visto? sì io se volete raffermerei anche questo sì sì, lo raccolgo, lo raccolgo ah che bello eh che bello e ragazzi se li trovo tutte bombettine così guardate già due qui eh qui sono appena passati due meno male che non l'hanno visto perché lo devo prendere io questo qui che ne dite? ah 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 bellissimo guardate mazzano e duro bello eh tac cioè ragazzi stavo andando via guardate che bestione stavo lasciando no non si lasciano queste bestioni ovviamente si raccolgono questi bestioni qua eh sì si raccolgono peccato lasciare qui questo però è tutto marcio nolle niente riguardo in giro questo era quello che ho lasciato lì perché era marcio ma in lontananza guardate stiamo arrivando sì stiamo arrivando a prenderti ti salvo io ti salvo io sì sì anche questo di nascita va bello un altro ma che gambotto testa piccola e gambone guardate qua che roba